Fraganiano, Palazzo Marchesale, conferenza stampa di presentazione per la ricandidatura da parte del sindaco, il dottor Giuseppe Fischetti con la sua lista Fraganiano 4.0 2021, si voterà tra settembre e ottobre prossimi. E allora sindaco facciamo un po' il punto, il bilancio di questa consigliatura e poi perché si ricandida con quali obiettivi. Molto significativo anche il 4.0 quando invece cinque anni fa circa era Fraganiano 2.0. Sì, questa sera presentiamo il nuovo movimento, il simbolo della lista che accompagnerà il movimento politico Fraganiano 4.0 alle amministrative 2021. C'è stata chiaramente un'evoluzione, quindi siamo passati nel 2016 da 2.0 a 4.0. Un'evoluzione che è una sorta di aggiornamento software ma risponde anche a tutto ciò che è stato realizzato nell'arco del quinquennio. Quindi con dei fatti concreti, con delle opere concrete, con delle azioni amministrative concrete ci proponiamo alla cittadinanza forti di un bagaglio che è evidente sotto gli occhi di tutti. Vedete una fiducia alla luce dei risultati conseguiti? Alla luce dei risultati conseguiti allargando addirittura la compagine a ulteriori forze che si innestano nel movimento politico. Quindi sono anche questa sera presenti i ragazzi e i rappresentanti del meetup 5 Stelle Fraganiano, sono presenti i rappresentanti di una strada diversa, un movimento politico che ha un respiro di natura provinciale. Sono presenti chiaramente tutti gli amici e i componenti del movimento originario che è il Fraganiano 2.0. Quindi una compagine che ripropone le vecchie direttrici politiche ma con nuovi innesti e con delle prospettive che chiaramente andremo poi a enucleare nel programma elettorale che stiamo scrivendo a più mani.